Ciao, siamo lo studio MQA Metroquadro Architetti di Milano, siamo molto contenti di partecipare al DJ Arc di settembre 2017. La nostra playlist è composta ovviamente da brani che ci piacciono, legati al concetto di movimento, spazio e felicità. Movimento perché secondo noi sono brani che obbligano a muoversi, a ballare e a impossessarsi dello spazio, perché l'architettura modifica lo spazio, lo migliora e rende, si spera, le persone più felici. Enjoy the playlist. Ciao a tutti!